L'area che si estende intorno alla città di Altamura è un territorio di antichissimo insediamento. Addirittura al Pleistocene superiore risale lo scheletro del cosiddetto Uomo di Altamura, unico esemplare di Neandertal pervenutici per intero, esposto nel museo assieme a ceramiche peucete, il mimbronzo e monete greche e romane. Il Museo archeologico nazionale di Altamura ha l'ingresso gratuito, erede dell'ottocentesco museo municipale, si trova a ridosso del centro storico della città di Altamura, in località La Croce, zona archeologica di grandissima importanza, molto ricca di testimonianze dal bronzo antico fino all'avanzata età ellenistica.